ragazzi eccoci qua siamo convincitore di una delle puntate del fantastico programma rate my car ecco l'amico christian christian cosa ci dici della tua splendida auto ragazzi in saluto soprattutto ad affari sbullorati niente sono uscito vincitore con abominio auto progetto un po più unico che raro anzi unico visto che tra l'altro sarà anche omologata quindi posso circolare tranquillamente cose che si domanderanno molti come piacciono a noi gli affari sbullorati le auto devono essere personalizzate a piacimento del proprietario ragazzi infatti il nome ricorda perché si chiama così ricorda perché l'hanno assegnato sui social i puristi d'artisti quindi come l'hanno vista è un abominio non c'era più un nome azzeccato quindi io ho dato tranquillamente a occhi chiusi anche perché suonava bene la macchina ho fatto il lavoro di sana pianta dall'inizio alla fine trasformando un modello lx in evo e montando un motore ricordano motore di prato la serra 5.20 quindi sta per 5 cilintri di ventipalvole turbo motore elaborato dalla vicina scf di spaziani bene ragazzi beh ovviamente la macchina è fantastica piace in ogni dettaglio noi ringraziamo e salutiamo cristiani facciamo i complimenti per essersi portata a casa la vittoria sulla puntata un saluto ciao ragazzi